tippino il postino che bello poter lavorare in ufficio quando fuori fa freddo sì perché il compito del postino non è solo quello di consegnare lettere pacchi ma anche quello di gestire tutta la corrispondenza all'interno dell'ufficio postale qui arrivano lettere pacchi da tutte le parti del mondo e fortunatamente oggi non c'è stata ancora nessuna urgenza quindi che cosa può capitare di male allora vediamo questo lo fa un messaggio da parte dei miei amici del teatro prova tippino è arrivata la mia bene non so se arrivo fino a domenica mi sto sciogliendo aiuto certo il pacco per teatro prova allora sì 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 è qui da qualche parte era un pacco di no neve no un'altra volta la neve al teatro prova mi stai congelando le dita neve domenica 15 gennaio ore 16 e 30 vi aspettiamo con le moffole alle mani chiavi della bici